Il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica di Pavia tratta tumori radioresistenti o inoperabili attraverso l'impiego di ioni carbonio e protoni che hanno la capacità di rilasciare la loro energia solo in prossimità della massa tumorale, riducendo al minimo l'impatto sui tessuti sani circostanti e i conseguenti effetti collaterali. L'adroterapia si pone come indicazione ideale per i tumori radioresistenti e per quelli localizzati vicino ad organi a rischio, con una novità Inside, uno strumento posizionato vicino al letto dove il paziente riceve il trattamento, una sperimentazione di un sistema di imaging in grado di fotografare i fasci di protoni e ioni carbonio utilizzati per colpire i tumori con l'adroterapia per rendere più precise le terapie stesse. Si tratta di particelle cariche che sono prodotte ed accelerate nel sincrotrone dell'Ocnau, che è tutta alta tecnologia fatta in casa e in collaborazione con il centro di fisica nucleare italiano, l'NFN e il CERN. È un tipo di trattamento particolare in quanto utilizza particelle cariche anziché i fotoni X della radioterapia convenzionale. Ci sono particolari tipi di patologie e di tumori che vengono trattati e qual è la caratteristica? Dunque trattiamo in particolare tumori solidi radio resistenti e in particolare sedi complicate da irradiare per la delicatezza degli organi da cui il tumore è circondato. Quindi trattiamo in particolare tumori del basi cranio, cordomi e condrosarcomi, sarcomi, melanomi mucosi. Trattiamo tumori big killer come per esempio il tumore del pancreas che con la radioterapia tradizionale comunque non raggiunge dei dati accettabili di sopravvivenza. Stiamo facendo studi per trattare il polmone, trattiamo sarcomi retroperitoneali, quindi tutte quelle tipologie tumorali per le quali i trattamenti tradizionali chemioterapia e radioterapia non hanno raggiunto dei risultati soddisfacenti. Trattiamo in particolare bersagli fissi, quindi tumori del distretto cervico-cefalico, quindi tumori del testa-collo. Poi trattiamo un po' tutti i distretti in realtà, anche la colonna, il sacro, bersagli in addome e anche nel torace, però questo tipo di trattamenti è più complesso e richiede accortezze maggiori per il controllo del movimento d'organo. Diciamo comunque che la maggior parte dei nostri trattamenti riguarda le patologie del distretto testa-collo. Ci sono diversi tipi di patologie che interessano questo distretto? Dunque trattiamo, diciamo, abbiamo trattamenti sia con protoni che con ioni carbonio. Trattiamo in particolare patologie radioresistenti, quindi utilizziamo per questo il carbonio, la sua alta efficacia biologica e poi trattiamo patologie in sedi difficili. Quando dico difficili intendiamo per esempio sede orbitaria, sede vicino ai nervi ottici, sede vicino al tronco dell'encefalo, quindi localizzazioni per le quali è richiesta un'elevata specificità spaziale proprio per colpire il bersaglio tumorale e risparmiare al massimo gli organi sani intorno. Quindi da una parte abbiamo le patologie radioresistenti per le quali utilizziamo il carbonio, dall'alto le patologie localizzate in sedi difficili per cui anche il protone può arrivare allo stesso effetto del carbonio, consentendo di dare una dose molto più alta di quello che si fa in radioterapia tradizionale proprio per la selettività spaziale della particella. I trattamenti vengono erogati a cicli? Certo, abbiamo dei cicli di trattamento la cui durata è variabile in base allo scopo, alla finalità che si pone il trattamento, quindi il trattamento curativo, e in base alla particella che utilizziamo. Quindi se usiamo i protoni il trattamento è un po' più lungo perché coincide con quello che è la durata di un trattamento di radioterapia convenzionale, quindi sono 6-7 settimane generalmente come nella radioterapia convenzionale, e poi abbiamo un trattamento più corto, quello con gli ioni carbonio, che di solito dura un mese. Questo perché l'efficacia del carbonio è più alta, quindi consente di ridurre la sua efficacia biologica alta, e consente di ridurre la durata totale del trattamento. C'è un percorso che il paziente deve seguire, un iter particolare? Dunque, il paziente generalmente giunge alla nostra attenzione o attraverso i colleghi che lo riferiscono, questo è il modo più classico, anche più diretto per venire trattati da noi, oppure attraverso il paziente si autoriferisce, cioè si propone mandando la documentazione. A quel punto, se ravvediamo un'indicazione, il paziente viene visitato in ambulatorio e emessa una potenziale indicazione che poi viene confermata nelle riunioni settimanali che facciamo internamente per discutere tutti i casi clinici con i colleghi e eventualmente anche con il team multidisciplinare che ha in cura il paziente. Quindi questo include il chirurgo, il radiologo, l'anatomo patologo e l'oncologo. A quel punto il paziente riceve un'indicazione, viene messo in nota per fare la simulazione o preparazione al trattamento e tempo, un paio di settimane, viene preparato il suo piano di cura. Quindi, fatto il piano di cura, il paziente inizia la terapia. In regime ambulatoriale, quindi è come in una radioterapia convenzionale, 5 o 4 giorni alla settimana, in base poi alla particella, cambia la durata complessiva del trattamento, come dicevamo prima. Quindi c'è la possibilità, dicevamo, che il paziente arrivi anche da altre strutture, quindi da altre professionalità, con cui in alcuni casi si è instaurata una sorta di collaborazione. Sì, diciamo, questa è la cosa, vogliamo stimolare il più possibile queste collaborazioni e l'invio dei pazienti da parte degli altri istituti. Questo perché non trattiamo tutti i pazienti, come dicevamo prima, la peculiarità del nostro centro è proprio il trattamento delle patologie rare. Quindi ci deve essere una sorta di rete oncologica che manda i pazienti alla nostra attenzione. Quindi assolutamente sono favorite le collaborazioni. Un esempio è la collaborazione che abbiamo con l'ospedale San Matteo, con il professor Benazzo, ma anche con tutto il resto della rete oncologica lombarda. Quindi parlo dell'Istituto Nazionale Tumori, dell'Istituto Europeo di Oncologia, del BESA di Milano, Humanitas. Abbiamo tutta una serie di relazioni che ci consentono appunto di ricevere i pazienti e poi di discutere con quelli che sono i tumor board interni degli ospedali le indicazioni specifiche del paziente. Perché poi ogni paziente ha un caso a sé, una sua storia e il tutto deve essere integrato appunto in un percorso che ha il paziente oncologico che magari è iniziato anni e anni prima e poi comunque a questo punto ci prendiamo noi in carico e poi seguiamo per il resto del follow up dopo il trattamento per anni. Questo è quello che capita. Infatti rivediamo tutti i pazienti nelle ambulatori di controllo ogni tre mesi, dipende un attimino da quando hanno finito la radioterapia. Generalmente all'inizio ogni tre mesi, poi ogni sei mesi, e poi a partire dal quinto anno di trattamento, dopo la fine del trattamento ogni anno. Quindi a quel punto il paziente diventa sia un paziente nostro che cogestito dal resto del team oncologico che lo ha in cura. Abbiamo dunque parlato del San Matteo e del professor Benazzo, andiamo dunque a conoscere questa realtà. Parliamo quindi di una collaborazione in questo caso, di un'interazione come la definiamo, quella tra il San Matteo e il Cnau per quanto riguarda determinati tipi di malattie, di patologie. Direi entrambe le cose, sia di collaborazione che di interazione. di collaborazione perché quando è stato aperta questo tipo di attività, per noi otorini è stato veramente un grosso passo avanti per quanto riguarda la cura di determinati tumori che interessano la nostra sfera. e quindi la collaborazione tra il mio reparto e la struttura dei radioterapisti e il personale di questo tipo di centro è sempre stata ottimale. L'interazione è importante perché innanzitutto nell'interazione ci sono anche i pazienti per cui bisogna interagire parlando di sanità, parlando di salute, parlando di pazienti che arrivano da tutta Italia, peraltro. Quindi ci sono anche tutta una serie di pazienti che arrivano, che noi accogliamo, ma inviati da altri specialisti e quindi deve esserci un'interazione tra lo specialista Torino che invia il paziente, il nostro team, il mio reparto e ovviamente i colleghi del CNAO. Quindi effettivamente per i tumori testa e collo questo tipo di collaborazione e di interazione è veramente molto molto stretta nel rapporto tra CNAO e Policlinico San Matteo. Parliamo anche di una zona molto particolare per quanto riguarda il corpo, ben definita e anche difficile in un certo senso. È una zona molto molto particolare sia da un punto di vista anatomico sia da un punto di vista diagnostico e soprattutto da un punto di vista anche della tipologia dei tipi di tumore che ci sono e che nascono e che a livello del nostro distetto testa e collo. Sono tumori considerati tumori rari, ma sono tumori che in realtà negli ultimi anni hanno un'esponenziale crescita per vari tipi di particolari, di fattori di rischio. Penso che sia opinione comune ormai, conoscenza comune, il rapporto del papilloma virus sui tumori, sui nostri tipi di tumori, in particolare i tumori dell'oro a faringe. Detto questo, sono tumori, o meglio, il trattamento di questi tumori deve prevedere anche tutta una serie di trattamento e di gestione di tutta una serie di peculiarità e di sintomi che possono andare ad alterare la qualità di vita del paziente, perché sono tumori che vanno a interessare le principali funzioni vitali. Parliamo innanzitutto all'estetica, tanto per dire, e poi la respirazione, l'affonazione, la deglutizione, quindi la richiesta di un trattamento associato ovviamente anche ad altri trattamenti, quale può essere la chirurgia, può essere la chimioterapia. La richiesta di questi pazienti è quella, da una parte ovviamente curare e guarire il tumore e dall'altra parte creare il minor danno possibile di tipo funzionale. Ecco perché in questa ottica, al di là del discorso di tipo oncologico, si inserisce anche il trattamento in questa sede, perché questo tipo di trattamento, che è un trattamento molto più preciso rispetto ad altri tipi di trattamento, molte volte risparmia e mantiene quelle che sono le funzioni e la qualità di vita di questi pazienti. Innanzitutto qual è la tipologia dei tumori che noi possiamo trattare in collaborazione ovviamente con il CNAO e ovviamente senza dimenticare che esistono altri tipi di trattamento che noi dobbiamo discutere con i colleghi del CNAO perché spesso questi pazienti fanno un trattamento chirurgico successivo e successivamente a questo trattamento. Esistono dei protocolli ben precisi che abbiamo discusso all'inizio con i colleghi all'inizio di questo tipo di collaborazione. I tumori sono i tumori delle ghiandole salivari, quindi della parotide, della ghiandole salivari, i tumori del massiccio facciale, quindi tumori che rivestono il naso e i seni paranasali, i tumori del rinofaringe che sono dei peculiari tipi di tumore legati alla presenza di un virus in una zona estremamente recondita e molto profonda perché si trovano tra il naso, il base cranio e il faringe e poi abbiamo i tumori del loro faringe e quindi i tumori che interessano un distretto un pochettino un po' più basso. Queste sono fondamentalmente le quattro grosse categorie di tumori che possono essere trattati con questo tipo di trattamento. Ovviamente questo tipo di trattamento si inserisce in un ventaglio di trattamenti che già erano inseriti nelle varie linee guida internazionali. I tumori test e collo hanno la peculiarità di essere trattati sia in ambito chirurgico, che in ambito oncologico, che in ambito radioterapico. Ritornando alla domanda iniziale della collaborazione, esiste un gruppo multidisciplinare dei tumori test e collo che da anni è attivo al Policlinico San Matteo e che è coordinato dallo Torino ma dove siedono l'oncologo, il radioterapista, il patologo, il radiologo, lo psicologo, il nutrizionista. Ovviamente a questo gruppo adesso si è aggiunto anche il radioterapista del CNAO perché tutte le settimane noi ci ritroviamo a discutere casi clinici perché è importante seguire ovviamente delle linee guida internazionali e che prevedono a volte proprio il trattamento multi-step, cioè per certi tipi tumori c'è prima la chirurgia, poi la radioterapia, poi lo capisce. Quindi effettivamente il mettere insieme il puzzle e il tassello è tutto finalizzato a customizzare il trattamento del paziente, cioè ogni paziente ha un suo trattamento. Quindi anche il fare rete diventa importante? Beh, è ovvio che il fare rete è fondamentale e soprattutto io dico sempre che questi tipi di tumore devono essere avviati in centri dove rutinariamente vengono trattati questi tipi di tumore. Questo purtroppo è una mentalità che non è così semplice da applicare in Italia ma diciamo che a me non piace il sinonimo di ospedale AB, se devo essere sincero, però il grosso centro o i grossi centri che raccolgono questi casi, condividono questi casi, hanno una valenza sia da un punto di vista clinico molto più importante rispetto ai piccoli centri, si riducono gli effetti collaterali, si possono valutare in senso critico e scientifico i dati e i risultati dei trattamenti. Quindi grosse casistiche danno grossi numeri, danno maggior facilità alla disanima e alla ricerca dell'efficacia di un trattamento. Io ovviamente nell'abito torino-lingoiatrico, io diciamo sono tra virgolette referente di Pavia per la torino-lingoiatria, quindi i miei colleghi italiani mi inviano i casi che io discuto con i colleghi del Nau, quindi questo per dire come la rete è importante, anche perché poi bisogna ricordare che questi sono trattamenti lunghi, quindi c'è la famiglia che deve muoversi, viaggiare, ci sono tanti elementi che da un punto di vista sociale sono estremamente importanti da tenere in considerazione. Camilla è in cura presso il Nau, ha una storia particolare che adesso ci racconterà e che riguarda proprio tutto il suo percorso di vita. Qual è il nome, cominciamo da questo, qual è il nome della tua malattia? Allora io ho una sindrome genetica che è la neurofibromatosi di tipo 1, nel mio caso è una mutazione genetica, sono nata così. Come si manifesta quindi, che cosa hai cominciato a vedere a un certo punto? Si manifesta con dei fibromi, li chiamano, che sono tumori benigni che però in alcuni casi possono anche trasformarsi insomma. Quindi avevi tipo degli accumuli? Le chiamano cisti benigne. La prima che ti ricordi? La prima che hanno notato i miei genitori quando ero proprio piccolina nella gamba destra, una piccola pallina e da lì è cominciato tutto insomma. Ho cominciato il mio percorso al burlo di Trieste e lì sono stata monitorata. Un altro sintomo anche sono le macchioline caffelatte sul corpo, appunto ne ho anche di quelle. E sono tipo, non sono nei, sono proprio? Proprio delle macchie marroncine. E quello è un segnale? Si anche quello è uno dei segnali. Quindi hai cominciato a Trieste, dicevamo, ad essere seguita e poi cosa è successo? Dopo i miei genitori hanno scoperto su un articolo di giornale che c'era questo centro a Padova che appunto studiava la malattia e siamo andati lì e lì abbiamo cominciato il nostro percorso fino all'età dell'adolescenza. Ed è stato proprio lì, all'età dello sviluppo, quando si sono manifestati ancora di più questi fibri. Con lo sviluppo sono cresciuti ancora di più, quello della gamba, quello del braccio destro e quello nel plesso bracchiale che quello è stato il peggiore insomma. Il più brutto. E quindi anno dopo anno li vedevi crescere? Si. Finché a un certo punto sei arrivata da un medico, una dottoressa? Si. Che cosa ti ha detto? Da Padova ci hanno spostato a Rovigo dove c'era la dottoressa Deborah Garozzo che è una delle studiose più importanti diciamo di questa malattia, neurochirurga e lì lei ci ha detto operiamo perché ero arrivata anche insomma a un livello abbastanza preoccupante e lei ha detto adesso operiamo e vediamo come va insomma. Perché nel frattempo li avevi ancora tutti ed erano cresciuti? Si. Esatto. Come è andata l'operazione? L'operazione è andata bene, dopo ho fatto un ricovero di 4-5 giorni e dopo sono tornata a casa e hanno mandato tutti questi fibromi a fare listologico come da prassi e un mese dopo è arrivato l'esito che nessuno si aspettava e appunto questo qui del plesso brachiale aveva un indice di malignità all'inizio però era sempre maligno insomma. Lì c'è un po' crollato il mondo addosso però appunto sempre la dottoressa ci ha suggerito il Cnau qui a Pavia che noi non sapevamo neanche dell'esistenza di questo posto e appunto siamo venute qua e ho avuto fatto un ciclo di adroterapia. Quindi cosa ti facevano? Sono state 16 sedute, facevo 4 giorni alla settimana, la seduta durava circa un'ora forse anche di più perché praticamente dovevo essere ferma in quella posizione come come volevano loro insomma avevo una maschera di un materiale adesso non mi ricordo, un materiale che proteggeva adatto alla terapia davanti alla faccia fino al busto perché la zona era proprio qui e io dovevo essere fermissima in quella posizione sul lettino e dopo avveniva la terapia che non sentivo né dolore né niente, proprio era impercettibile. E ne ho fatto 16 di queste 16. E poi naturalmente anche qui le analisi sono state fatte. Esattamente, prima di cominciare ho fatto una risonanza e un attack di posizionamento, le chiamavano appunto per trovare la zona corretta e così è stato. Perché la caratteristica è proprio quella di andare al bersaglio? A beccare proprio senza dare disturbo agli organi e alle zone intorno al tumore, insomma. Sì, quella è la caratteristica. Quindi bisognava restare immobili, vero? Esattamente, sì. E quanto durava? Alcuni minuti? Alcuni minuti, sì esatto. Era tutto il tempo di quell'ora, era il posizionamento, proprio trovare la zona giusta. Invece dopo la terapia in sé durava pochissimo. Adesso ritorni ogni tanto al CNAO? Sì, ho fatto il percorso di follow up, lo chiamano. Inizialmente era ogni 3-4 mesi e dopo, a seconda degli esiti che sono sempre stati positivi, hanno sempre calato gli incontri, diciamo. Adesso sono a 7-8 mesi. Si allungano sempre di più i tempi tra una e l'altra, ma è giusto tenere controllato. È giusto, sì. Ce l'hanno detto anche loro che appunto ai 5 anni è obbligatorio, diciamo. E dopo anche loro hanno detto, anche nei 10 anni si può, almeno una volta all'anno, è giusto farlo. E io vengo stravolentieri, insomma. Anche se i chilometri sono parecchi. I chilometri sono parecchi, sì. Però sono... Per la salute. Per la salute questo ed altro, volentierissimo. Poi è scoperto anche una città nuova, davvero. Esatto, anche Pavia è bellissima, sì. Cosa ti senti di dire a questi medici e se hai trovato, senza magari entrare nello specifico, ma delle differenze nel senso dal punto di vista dell'interazione, di come ti parlavano, di come si rivolgevano a te? I medici sono tutte persone fantastiche, dalle infermiere ai dottori, anche le segretarie, tutte persone di cuore, veramente, non posso trovare difetti, insomma. Perché si ha comunque un po' di paura, è normale, vero? Esatto, sì, però ti mettono tutti a tuo agio qua, veramente persone fantastiche. È posto fantastico, veramente. Noi naturalmente ti ringraziamo per aver condiviso con noi la tua storia. Grazie a voi. E tutto il nostro più grande abbraccio, naturalmente, per il proseguo. Grazie a te. Grazie mille. Camilla dunque ha fatto esami, controlli e è seguita il CNAO, cosa si sente di dire? Mi sento di dire che è un posto stupendo, che la considero la mia seconda casa e che la porterò nel cuore, è veramente un'emozione per me, manifestare proprio la gratitudine per questo posto, veramente stupendo. Mi hanno ridato una figlia che aveva dei problemi e qui li ha risolti, li ha definitivamente risolti. Per cui sono strafelice, veramente. Complimenti a questo centro. Per quanto riguarda la cura e quindi l'affrontare quelle che sono le terapie, un passo importante è quello di condividere, possiamo definirlo così, quello che si sta provando e quello che si va ad affrontare. Forse per, come dire, arrivare ad avere anche gli strumenti necessari per affrontarlo al meglio. Assolutamente sì, credo che sia fondamentale durante il percorso in cui ci si trova la propria vita sconvolta da una malattia, in particolare da una malattia complessa, spaventosa, come quelle che vengono trattate qui a CNAO. Poter avere uno spazio in cui la sofferenza, la paura, i dubbi e tutte le istanze profonde che vengono mosse da una situazione del genere possano essere ascoltate, condivise, riconosciute, messe sul piatto. Più è possibile parlare di qualcosa, meno questo qualcosa è doloroso e spaventoso. Che non vuol dire che cessi di esserlo, perché questo non sarebbe possibile, però che trovi un suo spazio per essere ascoltato e riconosciuto in modo che non invada tutto il resto della vita, questo sì. Il principio del nostro ascolto è questo. Tutti noi, tutte le persone, quando si parla dell'idea di morte, abbiamo una difesa principale che utilizziamo per difenderci, per proteggerci da questa cosa angosciosa, che è banalmente quella di guardare da un'altra parte. Cioè viviamo come se razionalmente sappiamo che quel momento arriverà, deve venire, che la vita è finita e che tutti avranno prima o poi un momento in cui affronteranno la morte. Ma nella vita di tutti i giorni viviamo come se quello fosse un futuro indefinito, un futuro che davvero non deve arrivare, è oltre il limite dell'orizzonte, è qualcosa a cui potrò guardare domani, potrò guardare in un altro momento. La malattia in questo caso ha l'effetto di inchiodare lì lo sguardo. Non è più possibile fare finta con se stessi, non col mondo, che quel momento lì non debba davvero arrivare. Mi costringe a farci i conti in un modo o nell'altro. E più posso farci i conti, più sarò potente nella capacità di muovermi, nonostante la mortalità, nonostante l'idea della fine. Il poter pensare qualcosa di qualunque tipo di cosa si tratti, soprattutto delle cose molto spiacevoli, molto angoscianti, sia la parte fondamentale per poterci entrare in contatto. Mi spingerei oltre. Oltre che pensare che è qualcosa che attiene alla sfera della comprensione, alla sfera razionale, credo che sia necessario poter sentire, trovare uno spazio per sentire quell'angoscia. Poi, a livelli di possibilità di vita, di qualità della vita, credo che nel momento in cui mi trovo, mi dovessi trovare ad affrontare una malattia del genere, a fare i conti con questo limite, e dentro di me si attiva un meccanismo per cui ho dei momenti in cui riesco a non pensarci, dove questa cosa mi scivola via, mi scivola addosso e posso vivere, posso vivere dei momenti ricchi, dei momenti intensi, dei momenti belli, nonostante quell'angoscia, è la situazione migliore che si può creare. Nel nostro pensiero di strutturare lo sportello di ascolto per questi pazienti e per i loro familiari, il nostro pensiero sulla cura è un pensiero che passa per due livelli. Da una parte uno spazio appunto per le persone che in primo luogo, che in prima battuta stanno affrontando la malattia, quindi il paziente. Uno spazio per le famiglie che affrontano la malattia e che vengono impattate dalla malattia. Io con loro, quando parlo con loro, uso il trincea di prima linea e seconda linea, perché è una battaglia che stanno facendo tutti insieme, anche se la battaglia forse non è l'analogia più giusta, è un percorso che stanno facendo tutti assieme. Però ci vogliono delle armi per combattere, quindi ci può anche stare? Ci sta. Il termine battaglia. Ci sta il termine battaglia, il motivo per cui dico che... Forse non per tutti va bene. Esatto, che non è appropriato in assoluto è che perché sposta un po' l'accento come sul tono di se combatti duramente vinci. E questo rischia di caricare sulle persone una fatica ulteriore, cioè non solo sto affrontando una grande malattia, ma devo anche essere bravo perché se no se perdo è colpa mia. Cioè è un rischio, è un meccanismo di colpevolizzazione. Io credo che ci sia importante avere uno spazio anche per le fragilità, per i dubbi, di tutte le persone coinvolte, dei familiari, dei pazienti che affrontano il percorso in prima persona e anche di tutte quelle persone che a vario titolo si occupano di questa famiglia, quindi che partecipano al percorso di cura. Quando parlavo di due livelli penso al fatto che ho la fortuna qui in CNAO di poter da una parte lavorare con i pazienti e da ormai da tre anni a questa parte di avere uno spazio di formazione, di comunicazione, di lavoro comune anche con il personale di cura, medici, infermieri, tecnici. Questo permette di farsi carico della malattia da tutti i livelli, di fornire ai pazienti uno spazio per la sofferenza, per l'ascolto e eventualmente se lo scelgono per costruirsi degli strumenti con cui combattere. E per tutte le persone che si occupano di loro uno spazio per riflettere su quello che succede nell'incontro con loro. Certo. Nella casistica che si presenta anno dopo anno ci sono persone che affrontano la malattia che hanno l'età più diverse, quindi giovani ma anche meno giovani. Ci sono caratteristiche simili nel modo di affrontarla o anche semplicemente di accettarla? Credo che una grande differenza di fondo ci sia nel fatto del punto della propria vita in cui si è arrivati ad affrontare una malattia del genere, cioè affrontarlo a 30 anni è diverso che non affrontarlo a 80, se non altro a livello di percorso compiuto, di sensazione di compiutezza della propria esistenza, del proprio percorso, del proprio essersi giocati nel tempo che ha dato della vita. Differenze in assoluto mi sento di dire di no, non mi viene in mente qualcosa che si possa dire in un modo. Questo non modifica l'atteggiamento però nei confronti della malattia da parte delle persone di un giovane piuttosto che di una persona invece di una certa età? Credo che l'atteggiamento venga modificato dalla soggettività, nel senso che ogni singola persona affronta la malattia, affronta il suo percorso in una maniera propria e credo che ognuna di queste maniere sia legittima e che sia da rispettare in primo luogo. Alcune persone arrivano e mi chiedono insieme di lavorare su degli strumenti che gli permettano di affrontare la terapia, anche la terapia quotidiana, il trattamento che a volte è molto faticoso, possono essere lontani da casa, possono essere qui in una città che non è la loro, lontani dagli affetti, lontani dalle famiglie, doversela giocare un po' per se stessi e nella fatica cercare degli strumenti immediati che in emergenza possano essere di sollievo nel portare avanti la terapia. E altre situazioni dove la malattia rimane quasi di sfondo, confrontarsi con questo limite, con queste grandi angosce, apre una riflessione sul senso della propria vita fino a quel punto. Qualche volta succede con ragazzi molto giovani, qualche volta succede con persone anziane che fanno un po' il punto della propria vita. I momenti forse di più grande angoscia che ho incontrato in questo percorso, che paradossalmente mi sento di dire è uno spazio estremamente vitale. Rispetto alla fantasia che io stesso avevo prima di lavorare in questo campo, di incontrare queste persone, che è una fantasia mortifera, angosciosa, non è così. Lo spazio di ascolto con queste persone è uno spazio assolutamente di vita. I momenti in cui questa cosa viene a mancare è quando si incontrano due verità, due pensieri di sé che non possono essere messi in comune, che non possono ascoltarsi l'un l'altro. È imprescindibile in un percorso di cura quello che riguarda l'aspetto dell'accoglienza della persona, della persona nella sua integrazione in parti fisiche, psicologiche, emotive. Noi siamo un tutt'uno e queste parti chiedono di essere riconosciute, integrate ed ascoltate tutte assieme. La possibilità di prendersi cura, il più grande riscontro che ho avuto da queste persone è che un'accoglienza umana, un ascolto umano che legittima anche la sofferenza e i dubbi è qualcosa che cura tanto quanto l'aspetto tecnico. È sempre possibile, credo, giocato nei vari ruoli delle persone che si trovano a giocarsi uno spazio nella relazione di cura. Uso il termine giocare perché credo che dia bene l'idea di come ci si spende in queste situazioni a volte difficili. Io mi sono formato in una realtà che si chiama ruolo terapeutico, per cui per me il ruolo è fondamentale e definisce il modo in cui possiamo costruirci la relazione. Se ci stiamo bene ognuno può essere d'aiuto e ovviamente lo spazio d'ascolto che ci può essere con un medico o con un tecnico o con un infermiere non è lo spazio di ascolto che ci può essere con me. Ma quell'incontro umano può essere declinato in tutti questi vari aspetti. La mia esperienza qui è che il tentativo impegnato, consapevole, a volte faticoso perché è doloroso incontrare quel tipo di sofferenza, paga, fa sì che le persone si sentano accolte, si sentano riconosciute. Questo è già un pezzo importante del percorso di cura, indipendentemente dall'esito finale. Michele ha 20 anni, viene da Valeria. Varese e anche lui ci racconterà la sua storia, quindi quello che è il suo problema, la sua patologia. Come sei venuto a sapere, come hai capito che c'era qualcosa che non andava? Per capire che c'era qualcosa che non andava è stato un percorso molto lungo perché io avevo appena fatto il patentino della moto e sono caduto con la moto, quindi abbiamo pensato che i dolori iniziali che mi erano venuti al collo fossero dovuti alla caduta. e allora abbiamo detto, siccome era estate, abbiamo detto ma adesso andiamo al mare, magari un po' di nuoto o qualcosa potrebbe servire a far passare il dolore, usandolo come diciamo fisioterapia se si può dire così. Poi così l'iperlimmio durante l'estate è passato, però con l'inizio di nuovo della scuola e tutto è cominciato a tornare il dolore e io ho iniziato a bloccarmi, è partito tutto dal trapezio della spalla destra e io ho cominciato a sentire dolore e non ruotare più la testa. Quanti anni fa è successo? Tre anni fa ormai, che lo abbiamo scoperto che sono iniziati i dolori tre anni fa, poi tutte le terapie sono arrivate due anni fa. Inizialmente, pensando fosse una botta dovuta alla moto, abbiamo iniziato a fare anche le terapie come fisioterapia, la kinesis, il laser e queste robe qua e sono andato anche dall'osteopata. Sono stato due mesi bene e poi un giorno tornando da scuola, fortunatamente c'era un mio amico con la macchinina che mi ha portato a casa e ho chiamato mamma mentre piangevo che le dicevo di tornare a casa dal lavoro perché io non riuscivo proprio a camminare perché i dolori, oltre ad essere acuiti, erano diventati anche tremori alle mani e soprattutto era insensibilità alle mani. Io sentivo sempre come se dormissero, infatti con il mio compagno di banco ogni tanto giocavamo e gli dicevo colpisci la mano perché voglio capire se si sveglia qualcosa o no, però non succedeva niente. E quel giorno lì le gambe sono state la cosa peggiore perché sentivo proprio di non avere forza, non riuscivo a stare in piedi. Così ho chiamato mamma in lacrime e lei è tornata a casa di corsa. Da lì è partito anche tutto un bruciore che partiva da dietro il collo e prendeva tutto, anche il nervo della mandibola. Allora a quel punto abbiamo pensato che forse c'era qualcosa di più che una semplice caduta dalla moto e siamo andati a fare le prime visite dall'ortopedico. La visita all'ortopedico, come siamo entrati, mi fa guardi il ragazzo io non lo tocco nemmeno perché si vede che non sta bene, facciamogli fare subito una risonanza. Poi siccome noi pensavamo ancora fosse un qualcosa legato a stress o qualsiasi cosa perché non avevamo non avevamo idea di cosa fosse. Era magari periodo di esami, avevi qualcosa in quel periodo? Periodi di esami no, però era comunque un periodo non bellissimo perché stando sempre male molto spesso mi ritrovavo anche a dover scegliere se uscire con gli amici o rimanere a casa perché non sapevo cosa fare. Poi lo sport non potevo fare niente perché comunque non riuscivo a muovermi e quindi con la mamma e il papà abbiamo deciso di andare a fare una mini vacanza. Durante quella mini vacanza di tre giorni ci ha chiamato il dottore preoccupato dicendoci di tornare immediatamente a Varese perché c'era qualcosa che non andava. La sera stessa che siamo tornati un sabato sera alle 8 siamo stati chiamati in ospedale e mi hanno ricoverato. Hanno fatto tutti i test che dovevano fare e mi hanno detto che c'era una massa che andava dalla vertebra C2 alla vertebra C5. Quindi proprio una posizione delicatissima. Sì, all'interno del midollo che fuoriusciva e avvolgeva l'arteria vertebrale. però di questo non ne avevano dato molto peso inizialmente perché la cosa principale era togliere quello che c'era nel midollo. Così hanno fatto un'operazione che non è stata delle migliori però comunque è servita, per quanto sia servita si può dire che ha avuto il suo effetto perché comunque loro erano preoccupati del fatto che non potessi superare la notte. Perché era veramente troppo grande la massa e stava schiacciando troppo il midollo. Quindi mi hanno operato tre giorni dopo d'urgenza e poi mi hanno mandato a casa. Abbiamo aspettato un mese e mezzo di avere l'esito dell'operazione e l'esito anche dell'esame. E lì è venuto fuori che c'era un cordoma e che però loro non sapevano cosa fare perché in vent'anni di carriera non avevano mai visto niente del genere. Quindi a quel punto mamma e papà si sono attrezzati, hanno iniziato a fare chiamate in giro e sono arrivati all'Istituto dei Tumori Nazionali a Milano. E lì abbiamo incontrato la dottoressa Stacchiotti, dalla quale sono ancora seguito al momento. Sei arrivato lì, cosa è successo? Ti hanno curato in che modo? O ti hanno dato indicazioni? Lì abbiamo fatto solo una visita e ci hanno dato delle indicazioni che dicevano di presentarci qui al CNAO e poi per fare la radioterapia, ma solo dopo aver fatto un'altra operazione chirurgica e ci avevano detto che gli unici due centri che ci sono per la radioterapia e per la chirurgia del cordoma buoni sono uno a Boston e l'altro a Tokyo. Non proprio vicinissimi. Esatto. Poi ci ha raccontato del dottor Fossati che è un dottore del CNAO che è molto bravo e ci hanno detto che volendo ci saremmo potuti presentare qui e parlare con lui. Quindi siamo venuti qui e qui il dottor Fossati ci ha fatto conoscere tramite mail e poi il numero che ci ha dato lui per riuscire ad arrivare ad Alessandro Gasbarrini, il dottore del Rizzoli a Bologna. Qui inizia un'altra fase. Qui inizia un'altra fase che tutta questa fase è durata di ricerca e tutto è durata sui tre mesi. Il primo agosto del 2017 sono stato operato da Gasbarrini ed è finita la fase chirurgica. A quel punto ho tenuto il collare rigido per un mesetto e mezzo, due e dopo aver tenuto quello lì ho potuto iniziare a fare le radioterapie. Non mi sono state nemmeno messe placchette né nulla, infatti c'è un piccolo buco di quasi un centimetro dietro le vertebre che grazie al dottore è qui e sto bene. Il CNAO quindi ti ha aiutato per la fase successiva? Sì, mi ha aiutato per la fase successiva anche se non è stato per niente semplice perché dirlo così in realtà sembra anche una sciocchezza perché alla fine è come se facessi un'attacca o una risonanza che dura un'oretta, un'oretta e mezza. però non è per niente uguale perché innanzitutto le prove che abbiamo fatto per fare la radioterapia inizialmente sono state, come ho detto prima, un'attacca, poi hanno dovuto stamparmi addosso con della plastica calda, una maschera che lì andava un po' a dove avevi diciamo il tumore. io avendolo al collo mi hanno dovuto mettere una plastica, questa pezzo di plastica che mi arrivava fin sotto le spalle, quasi ricopriva tutto il petto e mi hanno messo un bite in bocca per riuscire a tenere un po' la bocca aperta e respirare tranquillamente e poi in due, due infermieri mi hanno stampato questa, l'hanno adagiata e poi l'hanno schiacciato perché sui bordi c'era una plastica più spessa che si andava ad attaccare con una specie di chiodini così da poter tenere fisso e rendere la forma. A quel punto fanno fare un'altra tacca e giusto per avere il tempo di raffreddarla, non che fosse bollente ovviamente, però giusto quel calore che bastava per riuscire a deformarla. Dopodiché fanno fare una risonanza nella quale io onestamente non sono stato bene perché mi è venuto un attacco di claustrofobia pur non soffrendoci. Ebbè ma era una situazione anche particolare, insomma anche l'agitazione, la paura insomma. Perché comunque io, la cosa brutta è che se fai una risonanza o un attacco normale comunque quando sei lì magari o ti addormenti come ormai facendo tutte le visite che faccio io comunque anche durante la risonanza riesco ad addormentarmi, però lì anche se quando ti svegli e apri gli occhi vedi completamente bianco e non vedi niente, quindi ti senti tutto bloccato perché non puoi muoverti che è bloccato dalle viti sulla... E allora ho iniziato a suonare il campanello perché non riuscivo proprio più a rimanere lì dentro. Hai capito dopo che in realtà era una cosa positiva il fatto di essere bloccati? Sì, guarda, positiva o no onestamente non saprei dirlo, cioè sicuramente positiva per il lavoro che deve essere fatto perché dovevo stare proprio fermo, immobile, perché quando si fa la radioterapia ti fanno sdraiare sul lettino che si muove, se è movibile, ti fanno andare sotto una macchina che fa una radiografia a forma di C, che prima ti fa una radiografia dall'alto per riuscire a calibrare bene la posizione in modo tale da riuscire anche a capire dove direzionare il raggio nel punto giusto. Poi siccome ho dovuto fare il lavoro per bene, avendola al midollo non potevano essere irradiati più di un tot di raggi. Quindi oltre ad essere precisa dove esserlo ancora di più perché se no rischiavo comunque di rimanere bloccato su una sedia a rotelle. E quindi molto spesso una radioterapia che doveva durare dai 20 minuti alla mezz'ora finiva che durava anche un'ora. Durante il periodo che sono rimasto a Pavia perché mi sono trasferito con la mamma qui per due mesi in un residence, ho preso anche 5 chili e questo ha gravato sulla radioterapia perché loro la calibrano con un certo peso, col peso iniziale con il quale si fa la prima disonanza e la prima tac. Quindi quando poi mi sono sdraiato sul lettino, siccome ero più grosso facevo un po' più fatica a stare all'interno della maschera e anche il fatto che pesando di più si abbassava un pochino di più il lettino e facevano fatica a riprendere la stessa posizione. Infatti è capitato circa dopo un mese che avevo preso questi 5 chili. Questo ti ha scoraggiato un po'? Sì, quel giorno lì mi ha scoraggiato tanto anche perché io onestamente non volevo farla a radioterapia perché era una cosa lunga che fa bene per quello che ho avuto, però dopo tutto quello che avevo passato avevo solamente voglia di tornare a casa. Durante la radioterapia la parte difficile sono stati anche gli effetti diciamo collaterali. A me sono cominciati i tremori, lo abbiamo notato mangiando del sushi che è iniziato a... Non ti facevi mancare niente? No, 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 non mi facevo mancare niente, volevo divertirmi. Qualsiasi cosa prendessi, anche solo la forchetta, non arrivava in bocca quello che avevo preso nella forchetta mi cadeva prima per quanto tremavo. E poi un'altra cosa che mi è capitato è stato che al mattino quasi tutti i giorni mi svegliavo, facevo colazione e poi andavo in bagno che dovevo rigurgitare tutto. Però fortunatamente capitava solo al mattino. Però adesso i risultati quali sono? Cosa dicono? I risultati sono ottimi perché io sono... per scaramanzia farò lo stesso gesto, però sono due o tre anni... Questo si può riprendere. Sono due o tre anni che sto benissimo, non ho problemi, continuo a fare le visite perché comunque ne ho parlato con l'oncologa, che è la dottoressa Stacchiotti, che mi ha detto che per i primi due anni, per il primo anno avrei dovuto fare i controlli ogni due mesi, tre. Poi saremmo passati a tre o quattro mesi e adesso farò il prossimo controllo tra quattro mesi e poi passerò ogni sei mesi per... Si allargeranno sempre di più in tempo. Quindi già diciamo che questo è già un traguardo perché vuol dire che sto bene e questa cosa qui mi fa stare meglio. Certo, col sushi come va adesso? No, ma col sushi va benissimo. Quindi sono state efficaci, quindi c'è stato magari un po' di sofferenza per certi aspetti, insomma, anche un po' di paura, è normale che ci sia? Paura, quella lì tantissima, il pensiero di magari dover riaffrontare una cosa del genere... Adesso come adesso mi spaventa. Però come prima, magari sarei stato... Mamma e papà dicono che sono stato molto forte, che me la sono cavata bene. Però io onestamente la forza che ho tirato fuori lì, uno non so come sia venuta fuori. Cioè io pensavo solamente al fatto che se mi avessero visto star male loro sarebbero stati peggio, anche perché la situazione in casa non era bella. Perché non per problemi familiari o qualcosa, però il fatto è che mettiamo conto cadesse anche solo il tovagliolo dal tavolo, il mio tovagliolo io non potevo abbassarmi a riprenderlo. Magari mio fratello, mia mamma, mio papà si lanciavano loro per riprenderlo e io ero lì praticamente bloccato, cioè non potevo fare niente per loro. Tutta una sorta di protezione, ma che per loro era una cosa buona, però per me era abbastanza pesante, perché non mi sentivo di non poter fare niente. Mi sentivo inutile, diciamo. Quindi poi vabbè, col passare del tempo è passata anche questa cosa. Adesso faccio tutto, ho iniziato anche a fare sport di nuovo e tutto. Che cosa fai? Sto facendo palestra al momento. Bravo. Solo che il pensiero inizialmente era rivolto a quello, infatti io cercavo di sorridere sempre quando venivo a fare queste, le radioterapie o qualcosa, anche semplicemente all'ospedale durante la prima operazione, quando sono venuti i nonni a trovarmi, dovevi ridere per forza con i nonni, perché già loro entravano nella sala con una faccia, diciamo, un po' cadaverica, però dove si doveva fare. E questa forza io credo, non so se dovessi averne di nuovo un problema del genere, se riuscirei ad averla di nuovo così o no. Ma guarda, l'hai tirata fuori nel momento più difficile e più importante allo stesso tempo, quindi ce l'hai, ce l'hai. Vuoi dare un consiglio, dire qualcosa a chi magari ci sta seguendo? Un consiglio è, come ho detto prima, sembra di copiare Nadia Toffa onestamente, perché lei ha ragione, ho visto le sue interviste e tutto, perché più o meno ci è capitato nello stesso periodo, però aveva ragione, sorridere sempre, perché più sorridi, anche se si sta male, il sorriso ti dà più forza. Infatti io, anche se è molto spesso e difficile e faccio fatica, anche sotto supporto di mamma e papà, loro mi dicono sempre, guarda il lato positivo di tutto. E si fa. Si fa, per forza, quindi l'unico modo per guardare il lato positivo è sorridere, perché non saprei cos'altro dire, comunque di fidarsi sempre dei medici, sempre, di andare da, magari se non ci si è trovato con uno molto bene, di cambiarlo, però comunque di fidarsi, perché loro dovrebbero fare quello che è meglio per noi. Così poi si può sorridere, vediamo il tuo sorriso, guarda, vedi un bellissimo sorriso, quindi ti ringraziamo per aver condiviso con noi la tua esperienza. Grazie a voi. Michele è in cura qui al centro CNAO, cosa vi sentite di dire come genitori? Ma che finalmente si parla di qualcosa di positivo, soprattutto della sanità che c'è in Italia, perché qui non ci sono parole, ci sono veramente fatti, perché qui si curano le persone, ma non solo sotto l'aspetto clinico, ma soprattutto anche sotto l'aspetto mentale, perché la cosa bella è che qui, a parte il sorriso mio figlio che gli ha dato tanta forza, ma c'è anche tanto sorriso in questo centro, che insieme alla grande tecnologia, alla ricerca che è stata fatta, effettivamente abbiamo avuto un ottimo risultato. Oggi noi viviamo, viviamo bene e soprattutto lui ha ripreso questo suo sorriso e noi non smetteremo mai di ringraziare il centro CNAO, così come tutti i fantastici dottori che abbiamo incontrato e voglia di dirle a tutte le persone che soffrono o le famiglie che abbiate fiducia, perché si fa qualcosa e questo deve essere solo un punto di partenza per migliorarsi sempre. Queste sono le parole sentite fortemente dal cuore. Grazie a tutti.